Siamo qui con l'Arcivescovo Paolo Pezzi, una prima domanda, versiamo sulle battute finali del sinodo, che cosa sta venendo fuori di questo sinodo sui giovani? Ma direi l'aspetto, tra gli aspetti positivi c'è certamente una familiarità come clima, c'è un sincero desiderio di comunicare, di dire qualcosa, forse un po' i contenuti non sono, cioè non è facile dare concretezza, ma la cosa che mi colpisce di più in positivo è questo diciamo così, desiderio di comunicare ai giovani qualcosa di interessante per la vita e mi sembra che nonostante diciamo così tutte le fatiche o anche le incertezze che possano esserci, questo sentimento è comunque dominante. E la presenza dei giovani in questo sinodo, di cui tanto si parla, voi come la percepite all'interno dei vostri lavori, anche dei vostri circoli minori? Direi innanzitutto che dà una certa vivacità alle sedute e in secondo luogo mi sembra che aiuti a una presenza provocante che mi sembra che aiuti a cercare di non bypassare troppo i temi ma come dire, tu hai di fronte uno a cui devi rispondere.